Il procuratore generale Luigi Patronaggio ha chiesto la condanna a 13 anni di reclusione in continuazione dell'ex governatore siciliano Salvatore Cuffaro accusato di concorso in associazione mafiosa. In primo grado il politico che sconta una condanna definitiva a 7 anni per favoreggiamento aggravato alla mafia era stato prosciolto con la formula del non doversi procedere per nebbissi in idem. Il verdetto fu impugnato. Pochi giorni fa, iniziando la sua requisitoria, il procuratore generale disse che Cuffaro avvantaggiò il mandamento mafioso di Brancaccio, la famiglia mafiosa di Villabate e concretamente gli interessi di Cosa Nostra e di Bernardo Provenzano nella sanità attraverso Michelaiello. L'accusa inoltre l'essen aula a una intercettazione ambientale finora inedita che risale all'8 ottobre del 98. Ad essere intercettato è il capo del mandamento di Caccamo, Giorgio Liberto, arrestato nel 2009 e ritenuto erede del boss Nino Giuffrè. Liberto avrebbe detto ai suoi interlocutori di non preoccuparsi più di tanto, non c'è problema, c'è Cuffaro. Secondo il magistrato si tratterebbe di Salvatore Cuffaro, ma il nome è stato trascritto male, motivo per cui questa intercettazione non è emersa prima. Le parole del mafioso per la pubblica accusa starebbero a significare che già nel 98 Cuffaro era un punto di riferimento per Cosa Nostra. Nella sua requisitoria il procuratore generale ha aggiunto il tradimento di Cuffaro, uomo delle istituzioni e i danni dello Stato, e di una gravità inaudita. L'ex governatore non era uno sprovveduto e il suo apporto a Cosa Nostra fu volontario e consapevole. In primo grado, ha aggiunto, la procura ha chiesto dieci anni, ma visto che la giustizia non deve accanirsi e deve tenere conto dell'umanità della pena, io chiedo 13 anni in continuazione con la precedente condanna. Patronaggio ha tentato di smontare l'immagine ingenua di un Cuffaro vasa vasa, cioè amico di tutti, perché quando baciava a volte baciava assassini, ha detto. Secondo il magistrato che ha criticato il proscioglimento per nebbissi in idem, nel processo per concorso esterno sono emersi fatti nuovi che sarebbe stato ancora più facile provare se ci fosse stato consentito di sentire il pentito Stefano Loverso. La Corte d'Appello ha invece bocciato l'istanza dell'accusa di ascoltare il nuovo collaboratore di giustizia che, secondo il magistrato, avrebbe riscontrato le dichiarazioni di altri pentiti come Francesco Campanella.